Non hai ancora un sito web per la tua azienda? Vuoi rinnovare la tua vecchia vetrina online? Vuoi sfruttare tutti i benefici del marketing mirato ed aggiornare la tua immagine aziendale? Chiama LL Comunicazione! LL Comunicazione, un'agenzia giovane e dinamica che offre una gamma completa di servizi di comunicazione integrata. Dalla creazione di siti web ed e-commerce all'indicizzazione sui motori di ricerca, dalle campagne di marketing alla realizzazione di software personalizzati, dall'immagine coordinata fino all'organizzazione di eventi e meeting. Chiamaci per un preventivo gratuito 085 90 490 o vieni a trovarci! Siamo a Giulianova in via Bindi 2 www.llcomunicazione.it LL Comunicazione pianifica e realizza il tuo successo!